I problemi legati alla viabilità e alla sicurezza a Cavatigozzi stanno esasperando i residenti che ogni giorno vedono sfrecciare un centinaio di camion sulla strada che attraversa il quartiere nonostante il divieto e in diversi punti gli attraversamenti e gli incroci sono resi ancora più pericolosi dalla mancanza di visibilità. Il problema del traffico su via Milano è sempre stato affrontato con l'amministrazione, abbiamo attenzionato il problema del passaggio non consentito di mezzi pesanti, abbiamo cercato di trovare soluzioni che potessero risolvere definitivamente il problema come telecamere che potessero dare delle multe come è già avvenuto a Castelvetro Pecentino ma purtroppo ricevendo un costante rifiuto parte anche non motivato dal nostro punto di vista da parte dell'amministrazione comunale. Ora è comparso un ulteriore problema che è stato quello legato alla costruzione della pista ciclabile accanto a via Milano con una modifica sostanziale della viabilità che rende in alcuni punti non facile l'attraversamento in quanto la visibilità tende a essere molto ridotta. La preoccupazione è tanta, le persone da tempo sottolineano le criticità presenti. La sicurezza diciamo che è una cosa molto fantasiosa qua perché assolutamente non esiste, visibilità quando arrivi su dallo stop tra il guerrail, stare attenti alle macchine, ai pedoni effettivamente la sicurezza è una fantasia pazzesca, non esiste, è tutta un'insicurezza unica più che sicurezza. Le strade sono pericolose, hanno lavorato, ci hanno fatto spendere i soldi perché è comune, comunque lo paghiamo sempre noi, però purtroppo hanno fatto delle cose che sono spagliate completamente. Il problema di questo paese è perché non c'è mai bisogno di quartiere. È sempre stato così, adesso non so perché o sbagliano, non sono segnaletiche, comunque passano spesso, passano. Una situazione che non accenna a migliorare e che sta preoccupando sempre di più chi ogni giorno deve percorrere quella strada perché, come rimarcano i residenti, le automobili difficilmente rispettano i limiti, la posizione del semaforo non aiuterebbe a far rallentare le vetture e quando il semaforo stesso lampeggia, attraversare il quartiere diventa sempre più un'impresa.